Una delicata attività di controllo, coordinata dalle procure di Agrigento e di Catania, è stata portata a termine nei confronti di 40 esercizi di scommesse in tutta la Sicilia. Fondamentale è stato il coinvolgimento dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Palermo e delle sezioni operative territoriali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina e Trapani e la collaborazione dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. In totale sono state elevate sanzioni per circa 3 milioni di euro, nell'ambito di una vasta operazione di controllo in materia di scommesse sportive online non autorizzate. In particolare nell'isola sono stati scoperti 13 punti di scommesse clandestini collegati telematicamente con serveri di società residenti all'estero, prive di qualsiasi concessione e autorizzazione da parte della Questura. 18 le persone denunciate. Sono stati sequestrati inoltre 16 personal computer adibite ai giochi d'azzardo vietati, 5 apparecchi con vincite in denaro e 10 totem utilizzati per giochi illegali. L'attività permetterà inoltre agli uffici fiscali di recuperare l'evasione dell'imposta dovuta sugli apparecchi con vincite in denaro e quella sulle scommesse non versate all'erario, oltre all'applicazione delle sanzioni e degli interessi.